è meglio stare dietro qua meglio, girai dici? bene, dici? si io lo faccio galleria come si vuoi andare? certo, sto pensando a guidare wow ciclisti un tunnel ho fatto anche il centro spostati spostati travesse la macchina ciao, grande comunque ciao followers Benvenuti al Passo San Volto, destinazione di Fugio Eye Loft. E' salamando, lo sai? Ha capito la tua vera natura. Ecco la squadra Marvel al completo. Siamo arrivati al Rifugio. Ciao. 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 No, no, se devo chiamare l'elicottero vi lascio l'altro. Non è cattiveria, ragazzi. Ciao. 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 Arrampicatori. Arrampicatori della domenica. Già conduce il gruppo a chiudere Giacomo. E lì ho scoperto il rilasso Pollici. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai ragazze! Dai! Giacomo sul tetto del mondo! Siamo sul tetto del mondo! Jack è il primo ad aprire la rotta, ad aprire la via. Vai Jacky! Andiamo a conquistare la vetta! Vai 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 Jack! Aspetta a non cadere Ciccio! Piano piano Jack! Piano! Fermo Jack! Fermo, fermo, fermo! Monte! Ti senti davanti di noi? Meraviglioso! E' fantastico qua eh! Eccolo la vallata del Bellumese! Eccolo, non è fantastico! Riccate il Cese, quello che vi dicono con la neve è Cese. La vallata del Cese, quello che vi dico con la neve è Cese. E' la vallata. E' la gialla. Un po' 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 facciamo insieme una parola faccino così il mio video me l'ha colturato grazie a tutti grazie a tutti